Buongiorno e ben ritrovati a mattino 6. Iniziamo la nostra giornata andando a guardare insieme le prime pagine dei quotidiani regionali poi daremo spazio anche ai titoli nazionali e a quelli dello sport. Iniziamo allora dal centro edizione di Pescara, il titolo di apertura Riviera, i vigili multano 130 auto, controlli per la sosta selvaggia, sanzioni da 87 a 200 euro. Nel taglio alto il richiamo dal cronache nazionali con la politica pressing del nord su Conte, l'autonomia delle regioni mette in tensione il governo. Poi vedremo nel dettaglio più avanti nel corso della nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere adesso di spalla il report Commissione Unione Europea, burocrazia, abruzzo, maglia nera in Europa. L'Italia è al ventitresimo posto tra i 28 paesi dell'Unione e l'Abruzzo nella graduatoria delle regioni con la burocrazia più pesante e al centottantanovesimo posto su 192, lo dice un report della Commissione Europea rilanciato dalla CGA di Mestre. A Pescara poi la questione aree di risulta, più posti auto e un parco nel nuovo progetto per la riqualificazione delle aree di risulta. È tutto da rifare, il progetto adottato dal precedente Consiglio Comunale e lasciato in eredità dall'ex sindaco va rivisto, servono più parcheggi. Adesso andiamo a vedere invece la cronaca, centropagina muore a 23 anni schiacciata dal fuoristrada, la tragedia si è verificata all'Aquila Cecilia Marottoli, aveva 23 anni, era volontaria della Croce Rossa e morte in un incidente tra Lazio e Abruzzo in una zona impervia sul Montegiano. La ragazza è rimasta uccisa nel ribaltamento di un fuoristrada su cui stava viaggiando insieme a un 31enne di Antrodoco. Poi ancora la cronaca, morto il primario travolto in moto due giorni fa l'incidente a Vasto, lutto per Buzzelli, 57 anni, aveva lavorato anche a Pescara. Chiaramente come ogni lunedì ampio spazio allo sport perché dai ritiri si torna in campo seppure per le amichevoli estive e si parte dalla prima uscita del Pescara a Palena, entusiasmo ai 8 gol per il nuovo Pescara. Nella foto vedete Cristiano Delgrosso, poi il calcio a 5, Jesulito sarà ancora grande acqua e sapone e poi per le amichevoli invece del calcio di Serie A, Juve distratta, Sarri parte male, il Milan per quanto riguarda il mercato va su Correa. Nel taglio basso troviamo come sempre il buongiorno a Bruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, il titolo di apertura dalla luna al Pakistan con pessimismo. Lasciamo l'edizione pescarese del centro, adesso ci spostiamo sulla edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura lo abbiamo già visto ma lo riproponiamo, morto il primario travolto in moto, Vasto è durata due giorni l'agonia di Buzzelli, città in lutto, medici in lacrime. Stessa notizia anche per quanto riguarda la fotografia, muore a 23 anni schiacciata dal fuoristrada, la tragedia all'Aquila e poi andiamo a vedere a Lanciano al mercato coperto scatta il sequestro, vediamo perché è scattato il sequestro per il mercato coperto di Piazza Garibaldi dopo l'ispezione di sabato da parte dei NAS che ha portato alla sospensione dell'attività, l'immobile è stato anche posto sotto sequestro preventivo. Scendiamo nel taglio centrale, buche cinghiali, arrivano i soldi, Chieti, comune e provincia pagano danni per 30 mila euro a 17 cittadini. Nelle pagine di Sport, Vastese e Chieti, derby per il Bomber dos Santos, il duello sul mercato in Serie D per quanto riguarda l'eccellenza, Lanciano via alla stagione, oggi c'è il raduno della squadra. Ci spostiamo sulla edizione terramana del centro, andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura, post sisma, 4 mila pratiche ferme, Teramo, il sindaco d'Alberto, il commissario faccia subito l'ordinanza per cercare di sbloccare la situazione. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Giulia Nova, turista rischia di annegare, salvato da due bagnini, anziano turista sordomuto, si sente male in acqua e rischia di annegare ma viene salvato dai bagnini della cooperativa costa sicura e successo nel tardo pomeriggio di ieri a Giulia Nova. Nel taglio centrale altra notizia di cronaca, benzinaio in coma, parla la moglie Mosciano, l'uomo è stato colpito dal pugno sferrato da un rom, qualcuno sa, dice la moglie del benzinaio. Poi nelle pagine di sport, Teramo, 400 tifosi salutano la squadra in partenza per il ritiro di Celano ieri pomeriggio, poi il basket dia 2, Roseto anticipa il raduno al 5 di agosto. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro, si torna chiaramente sulla notizia di cronaca che abbiamo già visto, muore schiacciata dal fuoristrada, l'Aquila Sicilia Amarotto, lì 23 anni, era volontaria della Croce Rossa e qui vedete la sua fotografia. Poi Movida a Sulmona, due risse in centro città, spunta anche un coltello sabato notte durante la Movida in Piazza Tresche, tra Corso Video e Via Roma, in una di queste spuntata anche un coltello, in un'altra sfondata una vetrina. Nel taglio centrale ancora la cronaca, moto contro auto, agente e grave, l'Aquila, il poliziotto di 41 anni, tornava da un raduno delle due ruote. Nella parte invece dedicata allo sport, Avezzano in arrivo la punta Ranieri per il mercato di Serie D e focus in particolare su quello dei biancoverdi. Poi per quanto riguarda invece la promozione, caos l'Aquila, la società resta un rebus. Qui vedete la foto del presidente Marco De Paulis. Lasciamo adesso il quotidiano in centro, ci spostiamo sul messaggero, andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano, in apertura schiacciata dal fuoristrada. Si torna dunque sulla tragedia ad Antrodoco, l'aquilana Cecilia Marottoli di 23 anni rimane intrappolata, i primi soccorritori la rianimano, la morte prima dell'arrivo all'ospedale. Un amico resta ferito. Ancora la cronaca in questo box, lo schianto di Avezzano, il primario Buzzelli non ce l'ha fatta, si è spento ieri all'ospedale di Chieti, il direttore dell'unità operativa di Otorino Laringoiatria dell'ospedale San Pio di Vasto. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. Continuiamo con la lettura della prima pagina del messaggero. Marica e il fratello ci spieghino le due operazioni, il doppio intervento fatale contro l'obesità, la famiglia chiediamo verità e giustizia. Poi ancora Pescasseroli, l'animale del Trentino in un'oase abruzzese, il parco vuole l'orso condannato, il famosissimo ormai M49 attualmente in fuga in Trentino e sul quale pende l'ordine di abbattimento poiché è considerato pericoloso. C'è la proposta di farlo arrivare eventualmente in Abruzzo. Andiamo a vedere poi di spalla. Nella guida del gusto entrano anche le pizzerie per quanto riguarda il turismo. Esce la nuova edizione di Qualità Abruzzo, domani il Vernissage. Poi nel taglio basso gli spettacoli. Il Pescara Jets si divide in tre. A Proda stasera al Marina e di Pescara in collaborazione con Estatica per un tris di concerti. Alle 20.15 aprono Baby D'Amato e al Clarinetto con Tony Pancella al pianoforte. Nel taglio alto andiamo a vedere i richiami dalle altre notizie. Lo sport, l'atletica, l'ostacolista Leonardo Pucca sfiora il podio agli europei. La Serie C, il Teramo si raduna, l'incitamento dei tifosi e poi la Serie B, Pescara parte col Turbo, otto gol nel primo test. Intanto Tuminello e Maniero si candidano a diventare i gemelli diversi dell'attacco. Tanti tifosi per la prima amichevole con il Delfino Flaccoporto. Andiamo adesso ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo chiaramente andando a vedere il Corriere della Sera. Eccolo qui. In apertura la questione autonomia. Autonomia vera al nord e la richiesta dei governatori Zaia e Fontana. La risposta alla lettera pubblicata dal Corriere, oggi il vertice sulla riforma. I governatori al Premier Conte dicono non firmiamo farsi e il Premier invita al dialogo. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Di spalla il 44% al partito di Zelensky. Ucraina e le urne. L'ex Comico TV vince ancora. E poi l'editoriale di Paolo Mieli. Il voto dell'Unione Europea e i nuovi equilibri. Un Premier più forte. Questo è l'editoriale firmato da Mieli. A centropagina la cronaca. Pakistan è bloccato in gravi condizioni. Missione internazionale per i due italiani. Francesco giù per 500 metri. Ma lo salverò anche a piedi. La notizia dell'ultima ora è che c'è stato il recupero del ferito con un elicottero che lo è riuscito a raggiungere a 6.000 metri di quota. Andiamo poi a vedere l'apertura di Repubblica. Torniamo sulla questione autonomia. Conte Bersaglio Grosso. Governo la settimana della verità ultimatum di Salvini ai 5 stelle. Ho aspettato anche troppo. Il suo piano B è sostituire il Premier. Autonomia ai governatori del Nord feriti da Palazzo Chigi. La replica pronto a incontrarvi. Questo dice Conte. Intanto Siri. Due super testimoni confermano. Gli abbiamo promesso 30.000 euro. La questione di Bibiano. Bonafede apre un'inchiesta sugli affidi. Il PD attacco vergognoso. Questa è l'iniziativa del Ministro Guardasigilli con la reazione del Partito Democratico. Il retroscena. L'ultima tentazione di Matteo. L'articolo firmato da Claudio Tito. E poi scendiamo ancora il leader a solo un nemico se stesso. E invece l'articolo di Ilvo Diamanti. Andiamo a centropagina con lo sport. La figlia di Fiona Mei ha 17 anni sul trono d'Europa nel salto in lungo. Il volo di Larissa nel nome della madre. Questa è la bella storia di famiglia che ci regala lo sport e in particolare l'atletica. Andiamo sulla stampa e torniamo sulla questione autonomia. Strappo sull'autonomia. Il Nord non firmeremo. Conte è pronto a trattare. Palazzo Chigi convoca per domani un tavolo tecnico. Fontana e Zaia come il gioco del loco. Il Premier tende la mano e invita a vedersi per trattare. I dubbi degli esperti. Il documento che gela il sogno delle regioni. Rischi per il bilancio. In retroscena il piano di Salvini lega la sola al voto per ottenere il 40%. E poi la Libia. Aftar copia la tattica dei romani. Si combatte come duemila anni fa in Libia. Andiamo adesso a vedere la fotonotizia del taglio alto. Guerriglia Notav. Pietre Razzi contro la polizia. Notav assalta il cantiere della Torino-Lione in Val Susa. Lanciati razzi e petardi. 70 le persone denunciate in due giorni. Salvini. Adesso arresti e accelerazione dei lavori. Sull'alta velocità. Pericolose ambiguità dei grillini. E' il commento di Luigi Laspina. Andiamo a vedere adesso il fatto quotidiano. In apertura. Autonomia light. Ecco le prove del Sileghista. Conte e 5 Stelle. Il premier avverte Salvini e aspetta il suo scritto su Mosca. La settimana di fuoco del governo. Poi l'intervista al direttore del Tg della Sette Enrico Mentana. Nel tramonto delle idee Salvini diventa Maradona. Questa è l'opinione di Mentana. E poi nel taglio alto la ricerca. Altro che ricchezza. Questa è la ricetta per essere più felici. L'Italia ha perso posti nella classifica mondiale. Africa. Due Paesi Uniti per salvare i piccoli produttori di cacao. In chiesta di Mediapart su Gana e Costa d'Avorio. Andiamo a vedere poi la questione giudiziaria che riguarda Armando Siri. A Siri gli do 30 mila euro per che sia chiaro tra di noi. Tangenti sull'eolico. L'intercettazione di Paolo Arata confermata da Maglio, figlio di Vito Nicastri. Questo per quanto riguarda il fatto quotidiano. Adesso passiamo al Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano. In apertura nel focus professionisti e imprese alla roulette delle pagelle fiscali. La simulazione e i risultati dei nuovi ISA a confronto con quelli degli studi di settore. In sei esempi che dal medico all'immobiliare mettono in luce le criticità del passaggio. L'editoriale di Salvatore Padula. Il rischio di un salto nel buio. Questo per quanto riguarda il fisco. Poi ancora partono i controlli in condominio. Contabilizzatori da regioni comune via alle spezioni sull'obbligo di risparmio energetico. In regola metastabili. Sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni proprietario. in adempiente. Il sostegno alla famiglia micro aiuti da un miliardo e mezzo polverizzati in 15 fondi. Questo è ancora un altro articolo di approfondimento del Sole 24 Ore. E poi si parla invece di una riforma che dovrebbe riguardare lo sport. Dilettanti e non dal calcio al basket gli sportivi giocano la partita delle tutele. Sapete che c'è un doppio binario nello sport. Il professionismo da un lato e il dilettantismo dall'altro che molto spesso non corrispondono con quanto invece gli atleti fanno davvero. Professionismo che c'è per il calcio, il basket, e il golf e pochi altri sport mentre tutti gli altri sono considerati dilettanti nonostante appunto magari lo facciano per professione. Questa è la riforma che li riguarda che vorrebbe rimettere delle regole e delle tutele nello sport. Cambiamo argomento, andiamo su Libero in apertura Salvini I grazie ai nemici, tanti odiatori, tanti voti. Gli attacchi di Movimento 5 Stelle, Forza Italia, PD, giudici, magistrati, Unione Europea anziché indebolire rafforzano il leader leghista. Non è strano, dipende dal fatto che gli altri hanno stufato più di lui. Questa è l'opinione di Libero e del direttore Pietro Senaldi. E poi a centropagina Conte senza ritegno sull'autonomia, lettera di fuoco di Fontane Zai al Premier. Pensi solo al sud. Vuol dare ai governatori la colpa se la riforma salta. Andiamo a vedere poi il tempo. In apertura la mafia di Roma si fa il governissimo. Larga intese criminali. Nella capitale agiscono clan siciliani Camorra e Ndrangheta. Combattersi non conviene, meglio un tavolo dove sedere insieme e mettersi d'accordo. Questa è l'apertura del tempo. Poi sul messaggero ancora giornali romani. Scontro sui fondi alle regioni. Autonomia, Zaia e Fontana feriti dalle parole di Conte. La contesa su IVA ed IRPEF. Assedio al Premier. si tratta anche sul caso Russia. Salvini vuole una difesa chiara. Andiamo a vedere gli approfondimenti. Partendo da quello che riguarda i trasporti. Toninelli via il tecnico a favore dell'opera. TAV contro la rovescina Europa. Manca il piano per ottenere i fondi. Poi ancora la manovra che serve. Le imprese chiedono meno prestiti. Sfiducia nel futuro. E l'articolo di Antonio Patuelli. L'intervento di Patuelli dell'ABI su quanto riguarda il credito alle imprese. E poi di spalla l'editoriale di Luca Ricolfi. Due leader galleggianti. Come aderire al senso comune senza prendere una decisione. Scendiamo nel centro pagina. Cresta sulla benzina. I vigili di Roma beffati dai benzinai. Gli scontrini indicano più litri di quelli ceduti. Si indaga se siano stati rivenduti in nero. E poi la storia della famiglia di Fiona May. La rissa come mamma Fiona. 32 anni dopo. E medaglia d'oro nel salto in lungo agli europei under 20. Nel taglio basso. Altra notizia importante con gli scontri nell'isola di Hong Kong. In piazza con le bombe. Settimo weekend di scontri. I lacrimogeni sulla folla. Passiamo alla verità. Watergate alle vongole. Tutte le querele dietro la fuffa del Rubli Gate. Il direttore dell'Espresso sostiene di non aver mai ricevuto smentite. Le denunce in realtà sono almeno due. E se la gola profonda fosse uno al tavolo con Savoini, lo scenario cambierebbe da maxi tangente a maxi trappola. Questa è la posizione della verità su questa spinosa vicenda. Poi nel taglio centrale la mafia dei clan africani dietro i traffici libici. Le indagini dimostrano che la mala nigeriana controlla gli sbarchi con una rete che parte dai villaggi. Poi nella fotografia Boccassini tombale seppellisce l'intera retorica sul pool di mani pulite proprio nel giorno della commemorazione di Francesco Saverio Borrelli. Poi andiamo sul mattino di Napoli. Il titolo di apertura. Regioni scontro sulle tasse. Si torna sulla questione autonomia. Duello su Iva-Ipev. Lite sull'autonomia differenziata. Lavoro e grandi opere. Assedio a Conte. Zai e Fontana all'attacco. Salvini vuole una difesa piena sul caso Russia. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Il caos degli scafi spuntano i bagarini. La rivolta di Capri. Beverello. C'è chi compra i ticket dagli abusivi e nell'isola azzurra alle nove biglietti già esauriti. Questo per quanto riguarda il turismo in Campania. Poi c'è anche il calcio con la foto di Ancelotti. Assalto dell'atletico a James. Ancelotti Missione Scudetto. Il secondo posto non basta. Questo dal ritiro di Di Maro. E così arriviamo anche ai quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che in apertura propone il mercato. In particolare il Milan. Il Milan Correa. Andresilva al Monaco. Ora si stringe con l'atletico per l'argentino. Il club rosso-nero con l'aiuto di Mendes. Vende il portoghese e vira appunto sull'argentino. Incassati i 30 milioni. Per la punta ne servono 50. Previsto un incontro domani. In difesa Gianpaolo vuole De Miral. La Juve chiede 35 milioni. In alternativa Lovren. Poi nel taglio alto ancora il calcio. Conte sbraita e spera. Sammi Tannanchino tra Antonio Marotta e Zanghi. Il tecnico dell'Inter insisterà per Lukaku e Zeko. Ma ora chi compra i deprezzati Cardi, Raja e Perisic. Il commento, la strategia di Antonio è firmato da Fabio Bianchi. Poi la Juve con il Pipita morde e fugge. Higuain entra e segna con CR7. La sfida persa 3 a 2 col Tottenham con un grandissimo pallonetto di Kane. Però la Juve resta sul mercato e la Roma lo aspetta. L'analisi, il messaggio di Gonzalo e invece l'articolo firmato da Filippo Conticello. Andiamo a vedere poi il centropagine. Il titolo sulla notizia che abbiamo già visto. Mamma mia, figlia d'arte, Larissa Iapichino. Oro nel lungo agli europei junior come la madre Fiona May. La tragedia sfiorata dell'alpinista in Pakistan. Corsa per salvare l'alpinista italiano ferito. Francesco Cassardo, 30 anni. A sinistra il compagno di cordata cimentica ha coordinato i soccorsi. Dopo un volo di 500 metri c'è stato il recupero. Cassardo ha diverse fratture ma al momento è cosciente. Non sembrerebbe almeno per il momento in pericolo di vita. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport. Andiamo a vedere anche qui i titoli principali. Napoli e Cardi. C'è il contatto per il giocatore. Vanda apre la trattativa. La moglie agente. Poi Bologna e Sinisa. Un solo amore. Mille tifosi e la moglie Ariane al santuario di San Luca per così spingere affinché Mijailovic riesca a sconfiggere la malattia. E poi Roma. Visto che è pipita. Higuain. Un gol. Spacca Juve. Gonzalo in rete da capitano e sul tan Salatoni. Tifosi divisi sulla sua eventuale partenza. Sarri inizia male. Difesa da rivedere. Sono le critiche al tecnico, al neotecnico della Juve. Ci spostiamo adesso su Tutto Sport. Il titolo del quotidiano di Torino è abbastanza eloquente. Juve tienilo. Chiaramente si parla di Higuain. Così Gonzalo ha spiazzato tutti. Protagonista del match contro il Tottenham a Singapore. È perso tra due dalla Juventus. Il pipita segna. Gioca bene e viene acclamato dai tifosi. Ma la società è sempre intenzionata a venderlo. In rete anche CR7. Nodo riacquisto per la cessione di Ken. Andiamo a vedere le altre notizie su Tutto Sport. C'è chiaramente l'impresa di Larissa. Larissa che volo. Iapichinoro agli europei under 20 con un salto a 6,58 nel lungo. Mamma Fiona May. Fiera di lei. Ora non ascolti nessuno e vada avanti. Questo è il consiglio della grande campionessa. Poi Inter. Conte pressa subito Lukaku per avere l'attaccante. Il Torino. Ecco chi serve a Mazzarri, Verdi o Depol per concretizzare la vocazione offensiva dei Granata. Detti con un record. Arriva il bronzo nei 400 stile libero. Vince il discusso Sun Yang. E poi Sinisa. Quanto amore a San Luca. Abbiamo visto a Bologna il penegrinaggio per Mijailovic. Ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa in cui apriremo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a aprire come sempre le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Centro e Messaggero. Partiamo proprio dal quotidiano d'Abruzzo il centro. Il report nelle pagine di primo piano. In burocrazia siamo la maglia nera d'Europa. L'Italia al ventitresimo posto dei ventotto paesi dell'Unione. Potremmo dire che non se la passa meglio. Tra le regioni peggio dell'Abruzzo solo la Calabria e due aree della Bulgaria. Il Trentino è il territorio più virtuoso. Poi di spalla beni pubblici. Il demanio mette all'asta l'ex convento di Sulmona e nel taglio basso case al mare. I prezzi sono scesi del 3,5%. Stabili al Badriatico e Pineto. A Montesilvano valori compresi tra i 1.900 e i 1.100 euro al metro quadro. Questo è l'approfondimento sul mattone. Poi la riforma delle regioni. Marsilio, autonomia, il governo Cicchiami. Il presidente della regione non chiude la porta alle richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia e Romagna ma senza disparità. Poi solo Abruzzo e Molise fuori dalle trattative delle 15 regioni a statuto ordinario. 13 hanno avviato l'iter o impegnato i propri governatori. Poi nel taglio basso cani da ricerca. Due giorni di formazione concluse a prati di tivo le esercitazioni delle unità cinofile del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Prima di passare le pagine di Pescara, anzi no, restiamo sulla pagina di Pescara del centro. Andiamo a vedere i progetti per la città, nuovo piano per l'area di risulta, parco pubblico e 2.500 posti auto. Nel programma di Masci le indicazioni per procedere alla riqualificazione dell'ex stazione centrale, no, al progetto lasciato in eredità da Alessandrini. Ora si punta su un ampliamento dei parcheggi. Dunque questa è l'apertura scelta per le pagine di Pescara sul centro. Le proposte a confronto in questo box di approfondimento. Di spalla l'appello Blasioli, ex fea abbandonata, la regione sblocchi i lavori, così l'ex vicesindaco di Pescara oggi in consiglio regionale. Poi controlli sulla riviera, parcheggi selvaggi, multate 130 auto, vigili in azione tra il villaggio Alcione e viale Kennedy, sanzioni da 87 a 200 euro, 8 veicoli rimossi e punti decurtati. Poi riviera nord, biciclette, l'ordinanza che non c'è, parcheggi sulle aiuole non sanzionabili per la mancanza dell'atto del comune. Oggi in comune la festa di Sant'Andrea si presenta, si illustrano i dettagli dell'evento dopo la polemica sui contributi. Andiamo avanti sempre sul centro, Movida in riviera, sabato notte tra liti e false allarmi, vigili del fuoco e polizia impegnati per un finto tentativo di suicidio e scazzottate, eppure in via Piave senza feriti. Poi serata di autofinanziamento, il Banco Alimentare festeggia i suoi 30 anni, questo per quanto riguarda l'ente benefico. Poi il comando dei vigili urbani deserto, Masci ordina un'indagine interna, e il sindaco interviene dopo il blitz del consigliere della Lega Foschi all'interno dell'edificio vuoto. Voglio capire cosa è successo, ma nel prossimo futuro la polizia municipale cambierà passo, rassicura il neoprimo cittadino. WED di Pescara, fashion design da domani di scena all'Aurum per gli appuntamenti estivi. Andiamo avanti ancora, il videogioco sulla legalità è nato a Montesilvano, realizzato dagli alunni della prima C del liceo d'Ascanio, si chiama Fall of the Money e protagonisti sono i giudici Falcone e Borsellino che confiscano soldi alle mafie. Ancora beni culturali, gestione alle associazioni, penne alla tavola rotonda su Accendiamo il Medioevo, le proposte sulle convenzioni coi privati. Nel taglio basso, merce contraffatta, ammoniti 14 acquirenti a Montesilvano. Prima di passare le pagine di Chieti andiamo su quelle di Pescara del Messaggero, artisti annunciati sui social. Prima del contratto, concerti ed eventi, le scelte di Cuzzi a volte spiazzavano persino lo staff del suo assessorato, concorrenza zero. Questo dalle carte dell'inchiesta aperta dalla procura di Pescara. Il sostituto procuratore Luca Sciarretta ha indagato l'assessore con cinque impresari per abuso di ufficio e turbativa ad asta. Poi di spalla, bimba rischia di annegare salvata dal bagnino la paura a Montesilvano. Ancora polizia sulla riviera per lite tra ubriachi e finto suicidio. Questi problemi che continuano a Pescara per quanto riguarda la Movida. Nel taglio di basso il Pescara Jazz si fa in tre al Marina, ad Amato e Pancella, ad Amoretti e Maurizio Rolli in una sola serata. Teatro per ragazzi al Flaiano. Questo per quanto riguarda gli appuntamenti nel capoluogo adriatico. Andiamo a vedere le pagine di Chieti. Restiamo sul messaggero. Verità e giustizia per la morte della nostra marica, lo sfogo di Amedeo Chiavaroli, fratello della donna deceduta in ospedale dopo due interventi per obesità e attesa l'autopsia. Dalle prime ipotesi dei medici si pensa un'infezione fatale sulle cui cause va fatta chiarezza. È stata aperta appunto l'inchiesta. Poi decreto crescita, regole in arrivo per i pagamenti senza sanzioni. Notizia che ci proviene da Ortona. Ancora la cronaca. Il dottor Buzzelli non ce l'ha fatta. Il primario 66enne dell'ospedale di Vasto non ha resistito ai traumi dell'incidente. La ASL dice una grave perdita. Nel taglio basso Borrelli e i briganti di Lanciano. Passa anche per Lanciano un pezzo della storia familiare di Francesco Saverio Borrelli, magistrato a capo del pulle di Mani Pulite, scomparso sabato a Milano. Suo nonno, da cui ha preso il nome, è stato procuratore del re a Lanciano attorno al 1870. Pensate. Poi, notte bianca con aggressione, due giovani al pronto soccorso, invece la notizia che arriva da Vasto. Torniamo sul centro, pagine di Chieti. Tragedia a Vasto dopo due giorni di agonia. Ha morto il primario investito. Città in lutto non ce l'ha fatta. Roberto Buzzelli, travolto in moto da un fuoristrada. Aveva 67 anni, aveva lavorato a lungo a Pescara. Il collega e sindaco di Casalbordino, Marinucci, addio fratello mio, il miracolo non è arrivato. Questo il ricordo. Poi, nel taglio basso, due roghi in un mese, paura per la discarica. Cupello, gli ambientalisti, sono segnali inquietanti. Appello del sindaco, l'arta controlli, la qualità dell'area per la discarica civeta di Cupello. Comune e provincia si paga. Buche e cinghiali scattano 30 mila euro di risarcimenti. Al Via Chieti gli accordi bonari per evitare condanne in tribunale a gravi dispesa. Ha indennizzato un automobilista che ha sbandato su una macchia di gasolio. Poi, la lettera del Maruccino. Il Maruccino al Comune. Abbiamo bisogno di più soldi, scrive il direttore Di Martino. Anche Forza Italia continua a chiedere maggiori risorse per il teatro. La crisi politica resta ancora aperta. Il capogruppo d'Ingiullo non arretriamo di un solo passo, nonostante il sindaco abbia ritirato per la seconda volta le dimissioni. Poi ancora, nel taglio basso, pari opportunità. Sfida tra due liste. Avvocati al voto a Chieti. Da rieleggere anche il comitato contro le disuguaglianze. Le urne, il 29 e 30. Serraiocco e Agamennone. Candidateci anche d'Arcangelo. Andiamo avanti. Pagina di Lanciano. Il blitz dei carabinieri. Scatta il sequestro del mercato coperto. Pesce in pessimo stato di conservazione. Sigilli del NAS. Pupillo. Siamo già al lavoro. Troveremo una alternativa agli agricoltori. Poi per quanto riguarda i rifiuti, Ecolan arriva in altri 16 comuni. Passano con la società pubblica anche Archibomba, Lama dei Peligni e Pizzo Ferrato. Salgono a 47 i centri serviti da Ecolan. Nel taglio basso, a testa, torna il consiglio bilancio e scelta dei revisori. E poi donatori di sangue, Petragnani e il nuovo presidente. A Lanciano cambia il direttivo dell'ADOS. Andiamo avanti. Pagina dell'Aquila. La tragedia. Vani, i soccorsi, muore a 23 anni schiacciata dal fuoristrada. L'aquilana Cecilia Marottoli, volontaria della Croce Rossa, ha perso la vita in un incidente avvenuto sul Monte Eggiano. Le reazioni, il dolore dei volontari e degli studenti universitari. Il ricordo del presidente della Croce Rossa, Teresa Marinelli, era brava in tutto. Per noi è una perdita gravissima. Il cordoglio dell'Udu e di moltissimi aquilani. Nel taglio basso, ancora sangue sulle strade. Moto contro auto, polizioni. Gravissimo. La gente era su una potente Yamaha e tornava da un raduno. L'impatto tremendo tra Appoggio Picenze e San Gregorio. Andiamo avanti. A Sulmone, notte violenta. Due risse in centro durante la Movida. Nella prima, a Piazza Tresca, ha coinvolto anche un Rom che ha tirato fuori un coltello. Nella seconda ha sfondato una vetrina. In entrambi i casi sono rimasti casualmente coinvolti i giovani canadesi. Quando è scattato l'allarme, tutti si sono dati alla fuga. La polizia indaga con l'aiuto di telecamere e testimoni. E poi, evita un cane e rischia di finire nella scarpata. Brutta avventura per una donna. L'altra notte in centro storico, rimasta in bilico nell'auto, sempre a Sulmona. E poi, nel taglio basso, o vindoli in festa per il raduno degli alpini. Il clou, ieri, con la sfilata e la cerimonia per la consegna a Flaviani. Del premio a fedeltà alla montagna. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero. Incidente fuoristrada, si ribalta, muore una ragazza di 23 anni. L'aquilana Cecilia Marottoli. La vittima era una volontaria della Croce Rossa. La giovane intubata e rianimata sul posto è deceduta prima dell'arrivo in ospedale. Il dramma in montagna nel comune di Antrodoco. Ha offerto anche l'amico soccorsi difficili per i problemi dovuti al raggiungimento del posto. Poi, di spalla, Cavallo, città in mostra per le 90 candeline. Qui vedete uno dei quadri di Mario Cavallo. Moto contro auto, abbiamo già visto. Poliziotto finito in gravi condizioni. E poi, nel taglio basso, pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti, all'emiciclo. Andiamo a vedere adesso, sempre sul messaggero, le pagine di Teramo. Organizzo la protesta delle donne perché bisogna salvare l'ostetricia e l'apertura. Mancano il parto senza dolore. Tanti medici e la terapia intensiva neonatale che sono le basi. Il numero delle nascite in calo. Ovvio, bisogna garantire molto di più rispetto al territorio. Questo per quanto riguarda la sanità. Il primario, Anna Marcozzi, servono strumenti fondamentali per essere competitivi e dare servizi. Poi ancora, andiamo a vedere le altre notizie. Barbara, lui mi ha offesa, l'onorevole. Cerca visibilità la rottura a son di querele della relazione tra la D'Antonio e Bella Chioma, leader regionale della Lega. Di spalle, il benzinaio aggredito, resta ancora in rianimazione per quanto riguarda sempre la cronaca. E poi, vongolare, draga selettiva di pesca in Val Vibrata. Giulianova, sordo muto, rischia di annegare. Andiamo anche a vedere il centro. Pagine che riguardano Teramo. Post sisma, la ricostruzione, danni lievi. Rischio stop per 4.000 pratiche. D'Alberto sollecita, il commissario deve mettere subito l'ordinanza che trasferisce ai comuni le funzioni per le case lesionate, classificate B e C. Il racket della prostituzione tratta di esseri umani fissati, di interrogatori degli arrestati. Sabato, sotto accusa, 4 donne nigeriane e un teramano proprietario di due appartamenti in cui venivano ospitate le ragazze minacciate con i riti voodoo. Questa è l'inchiesta della squadra mobile di Teramo. Andiamo avanti. La moglie del benzinaio, chissà, parli. Mosciano, restano gravi le condizioni dell'uomo in coma dopo essere stato colpito da un pugno sferrato da un rom. L'appello della moglie affinché si possa fare luce con le testimonianze. La maestra Manesca impugna la sospensione. Accusate di aver maltrattato i bambini in una scuola dell'infanzia di Campi. Il caso finisce al riesame. Scendiamo ancora a Tortoreto. Resta grave il ciclista. Il 32enne coinvolto in un incidente travolto da uno scooter e ricoverato in rianimazione a Teramo. E poi ancora cane abbandonato sulla 24 salvato da due ragazzi a Basciano. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Chiaramente pagine di sport molto ampie come ogni lunedì sui quotidiani abruzzesi. Nella copertina dello sport del lunedì del centro, cantiere Pescara, brillano i bebi, otto reti nel primo test a Palena. Maniero mi farò perdonare dai tifosi con i gol. Poi ancora la Serie C da oggi si lavora a Celano. Teramo 400 tifosi salutano il raduno dei biancorossi. Chiaramente gli approfondimenti li vedremo tra un po'. E poi l'eccellenza Lanciano oggi al biondi il via Nero Stellati su Mazzaferro. Scutti firma col Sambuceto. La promozione l'Aquila regna l'incertezza sull'assetto societario. Miglianico prende Sablone. Per la Serie D Chieti va stese. Il primo derby è per Dos Santos per assicurarsi la punta ex Francavilla e Avezzano. Poi Triatroni, Xterra, Scanno va allo spagnolo Queto. Oltre 500 atleti in gara la seconda tappa italiana. Terzo Barazzuol. Per quanto riguarda il beach volley, Marassi e Vanni, secondi in Calabria. La Rosetana e il Pescarese salgono sul podio a Ciro Marina. La quarta tappa degli assoluti di beach volley. Dunque andiamo a vedere la prima uscita del Pescara nella doppia pagina che ci propone il Quotidiano Il Centro. Eccola qui Pescara, otto reti e applausi. Zauri, Sicoccola, i giovani amichevoli con il delfino Flaccoporto. Tuminello in biancazzurro per il riscatto. Livoriano Vigli Tabì mette in mostra la sua esplosività. Esplosività e nel primo tempo non passa inosservata la spinta sulla fascia del terzino Zappa. Nel taglio basso Zauri, diciamo il suo commento, ragazzi e senatori, abbiamo il giusto mix. Il tecnico alla festa in piazza fa il punto dopo la prima settimana di lavoro giovedì. Altro test con la Renato Curi angolana. Le interviste, i volti nuovi, Maniero, gol e sacrificio per il perdono dei tifosi. L'attaccante è pronto a riconquistare la piazza. Questa maglia la sento sulla pelle. Busellato vuol mettere radici. Sei squadre in tre anni sono qui per rimanere. Il 31enne ex Novara. La trattativa è stata velocissima e ho accettato subito la proposta del presidente Sebastiani. Dunque queste le voci dal ritiro del Pescara. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Pescara ai gol ci pensiamo noi. Ecco le punte Maniero e Tuminello, i gemelli diversi dell'attacco di Zauri e poi dall'altra parte l'esperienza e lo score, dall'altra la voglia di emergere e di riscatto. Dunque questa è l'apertura dell'Abruzzo Sport sulle Pescara. Per quanto riguarda l'amichevole, Brugman apre in evidenza Zappa, Tabì e Di Grazia. Nel primo testa la presenza anche dei tifosi nel ritiro di Palena. E poi completiamo questa pagina con il taglio basso. Europei Under 20. Puka sfiora il podio nei 400 ostacoli. L'atleta Quilano è arrivato quarto alla finalissima che si è svolta a Boras in Svezia. E commento ho fatto il massimo. Proseguiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la Serie C e il ritiro del Teramo. Teramo vorrei restare. Infantino è partito insieme alla squadra. Colloqui con Iaconi per decidere il futuro. Il bomber l'anno scorso fu il protagonista della Salvezza Speranza. Respiro un'aria diversa. Restiamo a parlare del Teramo. Andiamo a vedere adesso la pagina dedicata al raduno del Teramo. Ieri possiamo vedere anche delle immagini girate proprio ieri pomeriggio allo stadio Bonolis con la squadra in partenza per il ritiro di Celano. Vedete anche l'entusiasmo dei tifosi. Chiaramente si è creato anche un entusiasmo diverso. Qui è l'allenatore Bruno Tedino. Un entusiasmo diverso, dicevo, dopo il cambio di compagine societaria. La cessione dal presidente Campitelli a Franco Iacchini. Dunque ci sono grandi aspettative per quanto riguarda questa stagione del Teramo. Un suo rilancio per un campionato di vertice. Qui vedete la partenza proprio dell'autobus che ha portato poi la squadra nel ritiro di Celano. E dunque torniamo invece sul centro. Entusiasmo al Bonolis, la carica di 400 tifosi per il Teramo dei sogni. Da oggi si suda Celano, arriva Tentardini e in prova il Tannento Minelli. Speranza sto migliorando, spero di essere presto al top della condizione. Infantino, nessuno mi ha detto che devo essere ceduto. Ho voglia di fare tanti gol. Queste alcune delle voci dal ritiro. Poi le altre. De Grazia, il Modena, Mungo verso la Feralpi. Il Bari sta per annunciare l'argentino Ferrari. Mazzarani torna a Catania. Triarico è del Monopoli. Questo per quanto riguarda il mercato. Adesso proseguiamo con il calcio. Andiamo in serie D. Le novità della D. La vastese cerca il bomber. Amelia chiama Dos Santos. I biancorossi piombano sul ex Avezzano, che piace tanto ai tiatini del patron Trevisan. Contatti avviati direttamente dall'allenatore. Oggi l'incontro per raggiungere l'intesa. Dopo l'addio di Danielli, non arriverà un nuovo DS ufficiale. Le conferme di Iaroci e Stivaletta. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Il chietino molla la presa sul brasiliano. I neroverdi in pressing su Dos Santos. Il procuratore trattativa in piedi. L'accordo si può trovare. L'avvocato Carpineta cura gli interessi del centravanti. Abbiamo fatto una controproposta. La distanza tra domande e offerta si può limare. Lui ha un debole per i tifosi, rivela l'avvocato agente. Poi la squadra in costruzione. Giulianova in ritiro con tanti ragazzi. ingaggiato Montesi. Giallorossi oggi iniziano la preparazione a Borrello. Via Lenart, l'unico volto nuovo, e il difensore ex Samb. Oggi Notaresco Alvia. Giovani e scommesse per il nuovo corso del Notaresco. E poi il Pineto a lavoro a Lucoli con Epifani. Il DG Gianmarino. Campionato duro, ma vogliamo migliorarci. In ritiro da oggi, preso il Bebi Perini. Poi l'Avezzano. In arrivo la Punta Ranieri. Quasi fatta per l'ex Spoltore. Si stringe per l'attaccante Franchi. Oggi il Raduno allo Stadio dei Marsi. Passiamo all'eccellenza. La neopromossa. Riparte Lanciano. Oggi il Raduno. A lavoro per la Serie D. Rossoneri iniziano la preparazione al Biondi. Il presidente De Vincenti s'avverte. Obiettivo promozione. Occhio a San Buceto, Torrese, Castelnuovo e Spoltore. Il patron punta su Sardella e La Selva. Da loro mi aspetto grandi cose. Del Grosso è il valore aggiunto. Ufficiale il ritorno di Scippol. Altri colpi. La squadra è già competitiva. Manca solo un secondo portiere. Questo per quanto riguarda il Lanciano. Per le altre. Nero Stellati. Mazzaferra un passo. Scutti a San Buceto. Dintino a Penne. Chiaramente iniziano i raduni anche per quanto riguarda l'eccellenza. Andiamo in promozione. Prima di tornare sul messaggero. L'Aquila manca l'accordo con un gruppo locale. De Paoli si chiede soldi per cedere la società. Iannini vuole fare luce sui debiti del club. Scampato il pericolo della mancata iscrizione. Tiene ancora a banco la questione societaria. Sullo sfondo resta l'ipotesi dei Romani. In pole c'è la cordata rappresentata da Iannini, Rossi e Scopano. Poi fase di stallo sul fronte squadra. Allenatore e giocatori sono fermi al palo in attesa di sviluppi positivi sul fronte societario. Promozione prima categoria. Miglianico colpo sablone. Tabacco dice sì al Celano. Questo per quanto riguarda le altre. Andiamo a vedere adesso il messaggero. Torniamo in serie D. Il patron Bartolini sarà un borre al Giulianova. Oggi partenza per il Ritivo in arrivo. Due acquisti importanti. Fuschi resta. Leonard a Mondovì. Per quanto riguarda invece il Francavilla. Restano tre giorni per perfezionare l'iscrizione. Oggi l'incontro con Di Giovanni. L'ex patron del Chieti potrebbe dare una mano. E il mister sarebbe Montani per la ripartenza del Francavilla. Dopo l'addio di Candeloro. Poi Vastese serve esperienza. Venerdì raduno con tanti ragazzi promettenti. Ma potrebbe non bastare. I D. S. D'Agnelli saluta. Le altre notizie. Trofeo Ministars. Le nuove speranze passano a Roseto. Padova, Caserta e Sharks si impongono nella manifestazione di basket. E poi andiamo ancora avanti. L'Abruzzo schiaccia il mondo. Il movimento giovanile sta ammietendo all'ore a livello internazionale. sulle orme di Nicolai, di Silvestre, di Pescara, Claudia Scampoli di Vasto e Dalila Varrassi di Roseto. Allievi d'oro del Club Italia. Poi l'Italvolley a Chieti. Venerdì sera sarà sold out. Al Palatricale alle 18. Gli azzurri sfideranno in un'amichevole la Slovenia. Andiamo a completare anche il quotidiano Il Centro nelle pagine dedicate allo sport. Doppia pagina sul basket. Roseto anticipa il raduno perché c'è la Supercoppa. Squadra lavora a Roma dal 5 di agosto. Esordio l'8 di settembre a Caserta. La società vuole le finali al Palamaggetti come 74esimo trofeo Lido delle Rose. D'Arcangeli il pivò statunitense Latin subito pronto con il gruppo. E poi la Serie C Nuovo Pineto rinuncia all'iscrizione. Le altre notizie. In Serie B Teramo. Roscitti chiede combattività. A giorni gli innesti di Montanari e Nolli che torna dopo un anno. Giulianova ha preso l'esterno Chiroz da ufficializzare la conferma del play gobbato. Da Ross va via i primi colpi dei giallorossi. Andiamo a vedere ancora il basket. Teate, la Esenergie sarà main sponsor. In arrivo nuovi soci. E poi dopo il caso Amatori. Pescara l'Antoniana diventa realtà di punta della palla a spicchi nel capoluogo adriatico. Nel taglio basso le altre notizie. In Cigold Lanciano presi lungo Nicoci e l'Ala Guardia Martino. In vendita 150 abbonamenti. Vasto sarà il polacco Lucas ad affiancare Oluic sotto canestro. Di Tizio sarà DG della femminile. Il cannoniere croato Samicia rinforza la Magic Chieti. Andiamo avanti con le altre notizie di sport sul centro. E completiamo la nostra rassegna. Cross Country brilla l'Aquilano Pajorisi alla XEO Gran Sasso. Ai Praticitivo assegnati 13 titoli regionali specialità olimpico. In evidenza Bernardini, allievi e caprine esordienti donne. Poi amici della Bici Junior. Nero e Trionfo a San Buceto, la società pescaresa al primo posto in classifica. Nella pagina successiva la notturna toccolana di Cecco fa il vuoto. Festa del podismo con oltre 500 partecipanti sul podio. Mariani e Giovannangelo. Tra le donne brilla la tiatina di Prinzio. Andiamo a vedere poi le altre notizie di Sante del Grosso primi all'eco-maratona dei Marsi. E per la palla nuoto pescara Dio di Agostini e Di Nardo. Il primo passa a Latina, il secondo lascia lo sport. La società è al lavoro per cercare sostituti. Ed era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. La nostra rassegna mattino 6 torna domani alle ore 8. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione. Ricordarvi gli appuntamenti di oggi con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Buona giornata. Grazie a tutti.